Grazie mille per l'invitazione. Adesso cerco di spiegarvi un po' la relazione fra l'estetica di Hans-Wos von Balthasar e di Rosmini. Il Regno dei Cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Trovata una perla di gran valore, va vendo tutto quello che ha e la compra. Tutta l'opera del teologo svizzero Hans-Wos von Balthasar è nient'altro che un commentario di questo versetto del Vangelo. Il versetto citato non indica solo il contenuto della teologia, cioè il Regno dei Cieli, ma indica anche il metodo teologico, un approccio estetico che corrisponde al contenuto, cioè alla bellezza del Regno dei Cieli. Di forma paradigmatica Balthasar avanza la tesi «Il bello comporta un'evidenza che si impone immediatamente». Quindi il Regno dei Cieli non ha bisogno di una verificazione a un criterio esterno, comporta la sua evidenza. Balthasar è conosciuto per la sua impostazione estetica, perciò entra nella tematica di questo congresso che si dedica, tra l'altro, al concetto di bellezza nell'opera di Antonio Rosmini. La sua introduzione al saccio di Rosmini sul idilio e sulla nuova letteratura italiana, Pier Paolo Ottonello ribadisce, cito, «Uno degli aspetti adudocci più trascurati del pensiero di Rosmini è quello che riguarda i problemi dell'estetica». L'altra parte è evidente che Rosmini non sviluppa un approccio estetico come Balthasar. Per questo lo studio dell'estetica di Rosmini non sta nel centro della ricerca. Oltre a quell'osaccio menzionato, Rosmini si dedica al tema della bellezza nel capitolo decimo del libro terzo della Teosofia, ma anche nelle sue altre opere la tematica viene toccata, ma tuttavia non forma un centro esplicito nel suo pensiero. Secondo l'introduzione alla filosofia, tanto la calologia come l'estetica che tratta del bello nel sensibile fanno parte della deontologia. Ci sono quindi delle indicazioni rispetto al tema dell'estetica e del bello nell'opera di Rosmini. Perciò è sempre interessante entrare in una interpretazione estetica del pensiero rosminiano per tracciare alcune parallele tra le sue riflessioni e quelle di Balthasar. Tali considerazioni possono dare qualche orientamento nel tempo postmoderno, che si contraddistingue per l'estetica magari per un esteticismo che trascura o nega addirittura la dimensione oggettiva del bello, lo privatizza. Balthasar e Rosmini vedono sì l'aspetto soggettivo della bellezza. In questo punto rispettano e integrano nella loro concezione già la svolta antropologica dei tempi moderni, ma sanno anche salvaguardare la dimensione oggettiva e universale dell'esperienza estetica a favore del soggetto umano affinché non resti chiuso in sé. In corrispondenza a quella estetica frammentata del pluralismo postmoderno, c'è anche da notare una discussione teologica che fornisce un'altra cornice di uno studio dell'estetica di Rosmini e Balthasar. Da una parte, i rappresentanti della teologia pluralistica delle religioni difendono un pluralismo religioso che afferma sì l'importanza dell'esperienza estetica dell'assoluto nel contesto storico, ma per l'epistemologia adoperata da loro si nega la possibilità che Dio potesse manifestarsi al uomo di modo che non si sappia se Dio è realtà personale o impersonale. L'esperienza estetica viene ridotta a un puro che, la fede alla pura fides qua, ma estetica e fede rimangono bribe di ogni contenuto della fides qua. Contro questa impostazione pluralistica e postmoderna, il pensiero di Rosmini e Balthasar mette in rilievo l'oggettività dell'esperienza estetica al di là di ogni qualunque vita. D'altra parte, altri teologi sviluppano un approccio trascendentale, cercando di superare quello pluralismo con argomenti forti in opposizione ad ogni pensiero debole di stampo postmoderno. Riconoscendo però la critica canziana della metafisica, si limitano a dimostrare la pura possibilità logica di Dio o di un senso assoluto nella storia come criterio di verità di una ragione autonoma che si confronta con le pretese religiose e con altre cosmovisioni. Secondo questi autori, la pretesa di verità religiosa deve verificarsi a questo concetto della ragione. Sebbene Rosmini e Balthasar integrano nei loro abbrocci delle riflessioni trascendentali, intendano di rendere comprensibili che queste determinazioni trascendentali si devono a una oggettività formale, la quale chiamano l'essere, l'essere ideale o l'actus essendi. Questa riflessione trascendentale di forma oggettiva garantisce la legittimità della asserzione decessiva della teologia fondamentale che l'uomo è un essere di trascendenza, essenzialmente aperto a una rivelazione divina che, come evento, è dell'essere e non avviene al di là della realtà. Secondo me una concezione che si posiziona esclusivamente sul piano di una logica trascendentale non supera la dimensione del pensabile e in tal maniera indebolisce l'autonomia della conoscenza filosofica, benché la intenda difendere. Nella dimensione ontologica del pensiero di Rosmini e Balthasar vedo quindi un vantaggio, nonostante la critica di Kant, perché rende possibile una estetica della rivelazione. Rispetto alla terminologia usata indico solo che comprendo come Balthasar il concetto estetica nel senso originario di estesis, di percezione, che non si limita alla percezione del bello nel sensibile, ma che si riferisce anche alla cognizione intellettuale dei trascendentali della bellezza, della verità, della bontà dell'essere. Alcune spiegazioni ulteriori dei concetti centrali. Balthasar riferisce questa estesis alla forma o alla figura, alla gestalt. Percezione della forma, schaude e gestalt, è il sottotitolo della sua opera estetica Gloria, herdigkeit. La forma è la dimensione che percepiamo prima ed è ciò che ci convince nella sua verità auto-evidente. Sentiamo Balthasar stesso, cito Il bello è in primo luogo una forma, una gestalt, e la luce non cade su questa forma dall'alto o dall'esterno, ma in irrompe dal suo intimo. Spezies et lumen sono nella bellezza una sola cosa, almeno se la specie porta a buon diritto e realmente il suo nome. La forma visibile non rinvia soltanto ad un misterio invisibile la profondità, ma ne è la apparizione, lo rivela proprio, mentre nello stesso tempo lo nasconde e lo vela. Essa, come forma della natura e dell'arte, ha un esterno che appare ed una profondità interiore, ma è impossibile separare nella forma l'esterno e l'interiorità. Il concetto non giace dietro la forma, ma in essa. Chi non riesce a vedere e a leggere la forma non può cogliere nemmeno il contenuto. A colui al quale la forma non dà luce, rimarrà invisibile anche la luce del contenuto. La forma è inoltre la totalità e unità di una cosa. L'analisi degli dettagli segue. Come Rosmini, così anche Balthasar, indica un legame stretto fra l'esperienza di bellezza e armonia e l'idea della unità che precede alle parti, che rende possibile un'analisi delle parti le quali, nel suo insieme strutturato dalla forma, rivelano la bellezza di una cosa. Nel suo saccio sull'indiglio, Rosmini offre una definizione della bellezza. Intendo per bellezza l'ordine della verità nelle cose, dice. La verità sarebbe invece l'idea esemplare di una cosa. La bellezza consiste quindi in una relazione fra la realtà concreta e la sua verità. In questa definizione possiamo già identificare una dimensione dinamica, perché è sempre evidente che questa relazione subisce delle modificazioni. Parlando con Balthasar, la verità è il contenuto della verità che dovrebbe rappresentare e rivelare nella sua somiglianza che media l'esperienza estetica con la verità. Alcune date biografiche di Rosmini e Balthasar ci fanno meglio capire queste definizioni astratte. La sua vocazione saccia totale Rosmini la riceve da un atto di Dio per il quale Dio gli apre gli occhi per molte cose e Rosmini conosce che non c'è sapienza che è in Dio. Si tratta di una percezione estetica della sapienza divina che non risale né a un desiderio né a un progetto proprio, ma è un evento improvvisivo. Rosmini percepisce la bellezza della sapienza e la comprende nella sua relazione a Dio come fonte di ogni sapienza. Egli capisce l'ordine della sapienza delle cose. Anche il cammino di Hansos von Balthasar comincia con un'esperienza estetica. Ancora uno studente e dottorando di filologia germanica, nell'estate dell'anno 1927, egli partecipò a un corso di esercizi spirituali a Weilen presso Basilea. Ancora oggi, Balthasar appunta, dopo trent'anni potrei ritrovare in uno spertutto sentiero della foresta nera tedesca, non lontano da Basilea, l'albero sotto il quale fui colpito come da un lampo improvviso. Ma non furono né la teologia né il sacerdozio che quel che allora ballinò davanti ai miei occhi. Era unicamente, tu sei chiamato, tu non servirai, c'è chi si servirà di ti. Tu non devi fare progetti, non sei che una piccola tessera in un mosaico da tempo preparato. Io dovevo solo abbandonare tutto e eseguire, senza far piani, senza desideri né riflessioni. Dovevo solo stare in attesa e osservare per che cosa sarei stato utilizzato. La vocazione di Balthasar si basa su una esperienza forte della gloria di Dio che comporta la sua evidenza. La vocazione è la nuova verità di Balthasar. La sua vita entra nella dimensione della bellezza, della grazia, vivendo l'ordine di questa verità nella sua quotidianità. Balthasar ci dà un altro esempio nel prologo, nella sua opera Gloria, per capire bene il suo concetto di estetica e di bellezza. Cita una poesia di Raina Maria Rilke, Balthasar la usa per introdurci alla sua idea della gloria. Questa poesia è una meditazione del torso arcaico di Apollo. Leggo solamente alcuni versetti. Non conoscemmo il suo capo inaudito e le iridi che vi maturavano, ma il torso tuttavia arde come un candelabro, dove il suo sguardo solo indietro volto resta esplende. Là non c'è punto che non veda a te la tua vita. Tu devi mutarla. Dunque anche il fenomeno visibile della bellezza di un torso comporta una evidenza che si impone e conduce all'appello incondizionato La bellezza stessa possiamo definire, come abbiamo già visto, come interazione fra un aspetto interiore, la verità, qui lo sguardo e l'apparizione esterna della cosa qui, il torso. La bellezza e la gloria mediano, secondo Balthasar, l'esperienza di un rappimento. L'uomo si viene tolto da se stesso e si viene ridato in modo rinnovato, con una vita mutata. La bellezza precipitata, quindi, di terminare il giro umano, fa storia, è origine di un dramma fra la libertà che si rivela nella sua gloria e destinatario di questa rivelazione, che è un'altra libertà che è spinta a reagire. Nella sua opera gloria, sotto il titolo Evidenza oggettiva, Balthasar applica queste spiegazioni alla rivelazione. Anche il titolo programmatico del saccio Solo l'amore è credibile spiega l'idea dell'evidenza oggettiva. La gloria e l'amore di Dio in Cristo sono auto-evidenti. Per legittimare la sua concezione estetica, Balthasar cita sempre il versetto sequente del prologo dell'Evangelista Giovanni. Monogenes Dios, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, Ekenos exegesato. Egli lo ha interpretato, egli ha fatto un'esegesi perfetta di Dio Padre. Dio stesso è il suo interprete nel suo Figlio incarnato. La luce in cui si capisce la rivelazione è quella che la rivelazione porta con sé stessa. Ancora una volta, Balthasar dà un esempio illustrativo. Una fuga di Bach è di perfetta bellezza. Vi non si può cambiare una nota. Tutto deve essere così com'è. C'è una necessità intrinseca nella perfezione della fuga che non dipende da fattori esteriori. La bellezza parla da sé stesso. Allo stesso modo, l'amore di Dio parla da sé stesso. Una verificazione antropologica della rivelazione viene respinta. La rivelazione non è soltanto il coperchio di misura giusta sulla pentola dei desideri umani. Tuttavia, Balthasar non rifiuta l'idea di verificabili punti di aggancio della rivelazione dell'essere umano. Già l'esempio della fuga o dell'amore mostrano tali punti di riferimento, rilevano analogie. Balthasar sviluppa inoltre una filosofia cristiana per mostrare la plausibilità della verità della rivelazione. Ne parleremo più tardi. Rivoliamoci a Rosmini. È un risultato della ricerca che Rosmini corrisponde con la sua concezione della rivelazione alla comprensione moderna, che non la presenta come istruzione divina di verità sopranaturali, ma come autocommunicazione del Dio vivente. Per Rosmini non teme dimostrare la necessità della rivelazione per l'uomo, anticipando la riflessione di Maurice Plondel. Detta necessità non si riferisce solo alla dimensione esotrologica della rivelazione, ma anche a molte aporie filosofiche che altrimenti rimarrebbero isolte, come per esempio la relazione fra unità e molteplicità, una relazione che, come è stato detto, tocca immediatamente l'idea del bello. La rivelazione della trinità mostra la conciliazione fra unità e differenza. Rosmini non vede un pericolo per l'evidenza oggettiva della rivelazione quando trova una verificazione risolvendo problemi filosofici. D'altra parte, non mette in dubbio l'incapacità dell'uomo di mettersi in contatto con Dio o di poter provocare la rivelazione. Perciò Rosmini non concepisce una prova razionale e filosofica della trinità. Ugualmente, Balthasar non sottovaluta mai l'importanza della rivelazione della trinità per le domande aperte della filosofia e sviluppa un'ontologia trinitaria, come vedremo, ma la qualifica come metafisica teologica, che si deve completamente alla teologia. La scoperta della gloria e bellezza teologica nello spazio metafisico è il contributo specifico del cristianesimo, non della filosofia stessa. Mi pare che Rosmini pone più l'accento sull'importanza della riflessione trascendentale filosofica e sulla capacità della ragione per mostrare come un avvicinamento razionale alla rivelazione è possibile senza dedurre la rivelazione da presupposti filosofici. Per salvaguardare l'abbroccio di Balthasar da un malinteso postmoderno e positivista, mi pare necessario ampliarlo con tali riflessioni trascendentali che troviamo nell'opera di Rosmini. Queste riflessioni trascendentali impediscono che si riduce l'esperienza della rivelazione a un evento della grazia esclusivamente privato mai comunicabile. Sotto il titolo Evidenza soggettiva, Balthasar tratta le diverse condizioni naturali e soprannaturali che rendono possibile la percezione e la conoscenza della forma di Cristo in cui si rivela la gloria di Dio. Tra le diverse condizioni scelgo una che possiamo chiamare principio della passività, un principio che ritroviamo anche nel pensiero di Rosmini. Rosmini concepisce il principio della passività come virtù che corrisponde alla provvidenza divina. A essa l'uomo deve consegnarsi. Questa provvidenza divina Rosmini la definisce nel suo saccio sul idilio una forma eccellente in cui Dio rivela la sua bellezza. Si tratta dell'ordine della verità divina negli avvenimenti storici. Balthasar concepisce la passività dell'uomo come apertura a Dio e all'altra persona, ma anche in un modo generale all'essere. Il modello principale è il figlio incarnato che nella sua obbedienza al Padre, alla sua provvidenza, vive tale passività in forma perfetta. Il cristiano è chiamato di imitare questo modello come, per esempio, Maria. Senza questa passività l'uomo non percepisce il bello che la volontà salvifica di Dio dispone nella storia come manifestazione della sua gloria. Mentre Calrana definisce la passività e recettività del soggetto umano come debilità dello spirito che non riesce autonomamente a essere presso se stesso e ha bisogno dell'altro, Balthasar interpreta la passività e recettività dell'uomo come condizioni di ogni esperienza di alterità giù della comunicazione con Dio e l'altro. Per la mia ricettività l'altro trova casa in me. Senza passività nessuna esperienza della bellezza dell'altro è possibile. Nella sua ontologia trinitaria Balthasar identifica il figlio eterno, il modello originario di ogni forma di passività e recettività, perché il figlio si riceve dal padre e il padre inabita in lui. Perciò il figlio può rivelare la gloria del padre. Torniamo a Rosmini. Il principio della passività possiamo applicare anche alla sua epistemologia e ontologia. Con la sua idea della passività e recettività positive, Balthasar spiega aspetti essenziali di ciò che Rosmini nomina l'inoggettivazione dell'oggetto. Rosmini introduce il concetto di inoggettivazione per esprimere che l'oggetto si trasferisce completamente all'atto dell'oggetto per servire alla verità dell'altro. Sul piano personale, questa inoggettivazione assume necessariamente la dimensione dell'amore, dell'essere morale. Nel suo articolo Teologia e metafisica della Agape, nel pensiero di Antonio Rosmini, Giuseppe Lorizio espone come Rosmini può essere chiamato un pensatore dell'alterità a causa della teoria della inoggettivazione. Per la percezione sensuale che, secondo Rosmini, modifica il soggetto, l'altro agisce nella mia ricettività e passività e esige di essere riconosciuto nella sua alterità. Questa teoria dell'inoggettivazione fa parte, parlando con Balthasar, all'evidenza associativa della percezione della forma e figura di Cristo, che rivela la gloria del Padre. Questa evidenza dipende dalla capacità della inoggettivazione. Chi vuole vedere il figlio deve inoggettivare Cristo, come Cristo inoggettiva tutta l'umanità. Lorizio mostra inoltre come la filosofia dell'alterità in Rosmini trova il suo fondamento ultimo nella Trinità, nella alterità reciproca delle persone divine. La percezione della bellezza trova quindi il suo inizio nella Trinità della contemplazione reciproca delle persone divine. Oltre al principio della passività e alterità, c'è una dimensione ontologica che appartiene tanto all'evidenza oggettiva quanto a quella associativa della bellezza e gloria che contrassegna il pensiero di Rosmini e Balthasar, ne parlo adesso. Nel suo saccio, nel nuovo saccio, Rosmini elabora il concetto cruciale dell'essere ideale come oggetto formale della ragione che rappresenta ciò che tutti gli enti condividono. Per questo motivo, l'essere non è un'idea tra altre, è la madrice di tutte le idee. Perché? Siccome l'essere non risulta da un'esperienza sensibile, neppure dalla produttività dell'intelletto, dalle altre idee, Rosmini intende l'essere idea innata. Essa costituisce l'attività dello spirito umano e l'oggettività della conoscenza. In questo modo, l'essere rende possibile ogni esperienza estetica, la percezione del bello della forma. Per questo, Rosmini afferma nella teosofia che si congiunge e si fonde in uno il sentimento dell'essere e il sentimento della bellezza. Nel suo saccio sull'idilio, Rosmini espone che la verità delle cose dipende dalla loro somiglianza con la loro idea esemplare. Perciò, Eli conclude che la prima idea esemplare di tutto è l'essere stesso, è l'esistenza che rende vere e reali le cose. Questa relazione delle cose alla loro verità ontologica e quindi questo aspetto della loro bellezza che consiste nel loro ordine della verità, non la possono mai perdere. Gli altri gradi della perfezione e della bellezza delle cose dipendono dalla relazione alle loro essenze. Come è noto, Rosmini riscoperta e riprende la filosofia tomista dell'essere come atto formale e principio della conoscenza umana al di là di una concezione essenzialista che riduce l'essere al puro esserci. Altrettanto, è noto che Rosmini integra la sua filosofia dell'essere nel contesto della scoperta moderna del soggetto umano. Per liberare, però, la filosofia moderna dal pericolo di restare nella dimensione del soggetto, Rosmini sottolinea il carattere oggettivo dell'essere ideale. Contemporaneamente, egli riferisce l'essere e tutta la realtà al soggetto, o meglio, alla persona umana. Come Hegel definisce l'essere come l'essere per lo spirito. Questa relazionalità dell'essere alla persona umana plasma la concezione della bellezza. È oggettiva perché è riferita alla persona umana, ossia perché è soggettiva. Solo l'uomo percepisce la bellezza. Come ugualmente verità e bontà dell'essere non si manifestano senza riferimento allo spirito umano. Rosmini supera quindi una concezione oggettivista della bellezza, senza scioglierla in una qualunqueità postmoderna. Nel suo saccio sulla verità, Balthasar giunge a un risultato simile. Partendo da l'ente come tale, mostra come la densità e intensità dell'essere si aumentano in virtù della crescita di strutture autorelazionali, ossia soggettive. Perciò il cuore dell'essere sia la soggettività per cui l'essere tende al soggetto umano. La bellezza dell'essere è quindi manifestazione libere e drammatica, della sua soggettività che si dà alla percezione umana. Insomma, sotto l'angolatura moderna, Rosmini e Balthasar riprendono l'idea classica della intelligibilità dell'essere. Questa idea contraddistingue la concezione ontologica della bellezza come evento di un aprirsi e manifestarsi del cuore dell'essere, della verità e bontà. Ancora, un'immagine classica che esprime sia la funzione formale e conoscitiva dell'essere sia su carattere come atto delle cose e quella della luce. Essa ad luce impertinente, afferma Tommaso d'Aquino. Infatti, l'essere ideale è come la luce invisibile nella quale si vede tutto di forma oggettiva. Per questo motivo, Rosmini distingue fra la luce dell'essere e il bello materiale. L'essere non è la bellezza materiale, ma formale, da cui tutto viene illuminato nella sua bellezza. Anzios von Balthas riprende la metaforica della luce per illustrare la natura ideale dell'essere, riferendosi esplicitamente, in questo punto, alla ontologia di Rosmini. L'essere è di carattere ideale perché non è reale, concretamente. E anche la luce è reale nel senso che non sussiste per sé stessa, ma rende visibili le cose, provoca l'epifania dei colori e del bello concreto. In questa prospettiva, tanto la luce come l'essere si manifestano come un dar puro che rimanda alla domanda della sua origine, del datore della luce. Secondo Rosmini, l'essere ideale esige la domanda per un essere reale che è universale e incondizionato come l'essere stesso. Nel suo dar puro, dice Balthas, l'essere rivela la sua bellezza come un amare puro affinché ci sia data la realtà concreta. In questo dar puro, l'uomo percepisce le cose nella loro positività e bellezza ontologica. Le realtà sono amabili e belle a misura che partecipano a questo essere. Il più attrattivo e amabile è il datore dell'essere come un essere reale, le consuegue che tutta la realtà tende verso Dio. Siccome l'essere non è qualcosa per sé stesso, né sussiste, né si ferma in sé, ma è il dar puro, Balthas lo interpreta ulteriormente in una angolatura che notica per unire ontologia e teologia dogmatica. Egli scrive, La non sussistenza dell'acto sessenti è per Dio il medium adequatum per la sua creazione, allo scopo di portervi un giorno sussurrare la sua kenotica parola di croce e di gloria e di inviarvela, poi, quale suo figlio, incontro alla morte e risurrezione. L'essere stesso non è la luce, ma rende testimonianza della luce, rinviandovi di continuo in forza della sua non sussistenza. La percezione dell'essere come luce conduce quindi alla idea della bellezza drammatica del divino amore nel crocifisso che non aveva figura né bellezza da attirare in nostri sguardi. Per essere in grado di percepire, però, questa analogia entis e in seguito questa analogia pulcitudines, «Una conversione diventa inevitabile», afferma Balthasar. È noto che Balthasar identifica anche una struttura kenotica nelle persone divine. Sono relazioni sussistenti in quanto si svuotano in favore alle altre persone. Il padre realizza la kenosis in forma originaria, dando tutto ciò che è la divinità, generando il figlio. E l'essere come atto assomiglia a questa divinità, che è un dare e essere dato nel processo eterno della vita trinitaria. Sebbene Rosmini non sembra di contemplare la bellezza dell'essere kenotico, tuttavia, interpreta l'essere ideale come norma alla quale si orienta il soggetto nella sua autodeterminazione, di modo che l'essere viene chiamato essere morale. L'essere morale si realizza nel dare di sé stesso in favore della verità dell'altro. Una verità che, come abbiamo già visto, non solo esige il suo conoscimento, ma il suo riconoscimento. All'essere morale spetta dunque un aspetto di bellezza perché rivela in ultima perfezione e rende belle le anime. Con la sua concezione dell'essere morale, Rosmini corrisponde alla visione kenotica dell'essere di Balthasar. Ambedue vedono nell'essere l'evento di amore come suprema forma della bellezza in cui la soggettività dell'essere trova il suo compimento. Nell'orizzonte di questo essere una conoscenza di Dio personale diventa possibile, nonché la possibilità di una rivelazione di Dio in verità e amore in bellezza completa. Nella prossima parte della mia relazione mi riferisco soprattutto al saccio di Rosmini sull'idilio e sulla nuova letteratura italiana che ci lascia più capire l'indole storica e drammatica della sua comprensione di bellezza in corrispondenza alla concezione balthasariana di essa. Sappiamo già che Rosmini distingue fra verità e bellezza. Mentre la verità delle cose viene identificata con la loro idea esemplare, la bellezza di una realtà viene definita l'ordine della verità nelle cose. Secondo Rosmini, ne consegue che le belle arti non riproducono la verità esemplare delle cose che mai si mutano. L'oggetto delle belle arti, Rosmini lo definisce, la relazione che hanno le cose vere con la verità. Questa relazione conosce dei cambiamenti, è dunque di natura storica. Perciò il primo compito dell'artista non si esaurisce nel copiare e raddoppiare della realtà letteralmente figurativamente ripresentata. L'arte del poeta consiste nello sfiorare dalle cose la verità, ossia nel sapere cogliere tutti i gradi che esse hanno di maggiore somiglianza con la loro idea esemplare, con il loro tipo perfetto, che è la verità, dice Rosmini. Secondo, l'artista partecipa alla decifrazione dell'ideale intellettuale della bellezza che mostra l'amornia nella pluralità delle parti di una cosa, mostra la unità nel molteplice. Più importante è però il terzo aspetto. L'artista cristiano dischiude l'ideale morale della cosa, la cui relazione al gran tutto. Rosmini non intende per il gran tutto nessuna totalità statica, ma, cito, l'universo in relazione a Dio e alla sua provvidenza. La storia salvifica fornisce dunque l'orizzonte del bello e della percezione estetica. Dei consegui che la letteratura cristiana non potrebbe essere altro che, cito, l'espressione della divina provvidenza nell'universo. In ultima analisi, l'artista che fa sfiorare le bellezze delle cose imita il grande artista divino. Il Logos manifesta la sua verità divina completamente nella sua umanità assunta. Il Logos realizza immediatamente l'esemplare ideale, la verità delle cose, perché lui stesso è questa verità, sia verità dell'autore dell'universo e dell'uomo. E anche questo Logos è la verità dell'universo. Perciò il Logos riesce a rimettere l'ordine della verità in tutte le cose. Egli ricostruisce la relazione della realtà alla loro verità, che non è né un'idea platonica, né un'essenza astratta, ma l'idea spozzata al principio delle cose da Dio creatore è contenuta nel Logos. Così, dice Rosmini, gli uomini artisti nel cristiano sistema sono limitatori della grand'opera di Dio, il quale realizza il bello che preesiste nella sua mente. Cristo è anche l'unità concreta della pluralità delle cose, perché Egli è la finalità e lo scopo dell'universo. Tutto si muove, a questo punto omega, la bellezza finale. Dalla sua unione con il verbo, il mondo riceve una, cito, bellezza cosmica sopranaturale, aggiunge Rosmini nella Teosofia. Possiamo concludere che Rosmini conosce una comprensione drammatica della bellezza e dell'esperienza estetica. Il bello non è un'idea platonica, ma l'ordine della verità cristologica nelle cose create. Spetta all'artista cristiano di far parte della storia della salvezza in cui il divino artefice effettua la crescita del bello facendo aumentare la verità nelle cose e cercando la cooperazione della libertà umana. L'artista è invitato di promuovere la bellezza naturale, ideale e morale delle realtà. Così, egli realizza l'essere ideale, reale e morale, il conoscimento e il riconoscimento della verità ontologica e cristologica nel creato. È inoltre ovvio l'importanza del soggetto. La bellezza non si esaudisce nella perfezione di cosa, ma implica la sua manifestazione alla mente che la apprezza. In questa dimensione associativa della comprensione del bello si vede l'integrazione della svolta antropologica. L'opera di Anzio Sanbalta si accorda con questa visione di Rosmini. È conosciuto che egli sviluppa e applica le categorie del teatro alla rappresentazione dogmatica della storia della salvezza. Con queste categorie intende di superare categorie statiche di un pensiero che condivide l'ontologia essenzialista. Ciò che corrisponde alla bellezza naturale delle cose nel pensiero di Rosmini Baltasar lo intende per il ruolo che Dio prevede per ogni uomo nel drama della storia di salvezza. La bellezza ideale consiste nella missione che unisce gli aspetti molteplici della vita degli autori. Siccome gli uomini peccatori giocano male il brano concepito dall'autore divino essi perdono la loro bellezza ponendosi fuori dell'ordine della loro verità. L'autore del suo drama Dio assume la responsabilità per il suo capolavoro entrando stesso nel drama per l'incarnazione. Cristo assume la parte dell'uomo vero nei confronti agli autori privi di verità il che però conduce alla sua condanna. Accanto alla verità e bellezza stesse i negatori del progetto divino non possono stare senza distruggerlo. Negano l'apparizione della loro bellezza e la crocifichano. Restando fedele alla sua missione il figlio incarnato si solidarizza perfettamente con i peccatori anzi entra nella loro negazione per mettere in ordine la verità dell'uomo cioè la sua bellezza dove non c'è nulla. Pasqua mostra che Cristo poteva portare la verità e la vita ossia la relazione a Dio fonte di luce e vitalità nel luogo esistenziale della non relazione della bugia della morte e dell'assenza di ogni bellezza. il cristiano è chiamato di partecipare alla missione di Cristo ricevendo la sua missione particolare che consiste nella rappresentazione del misterio salvifico di Cristo. In questo modo il soggetto umano si fa persona teotramatica vive nella relazione alla verità realizzando il bello e santo. L'artista cristiano è chiamato di presentare le sue capacità prestare le sue capacità alla promozione dell'opera di redenzione mostrando persone che nella loro vita simbolizzano la gloria di Dio. In relazione a questo dovere l'artista cristiano il giovane Balthasar lo concepisce una interpretazione teologica della letteratura e filosofia. Conclusione l'abbraccio estetico di Balthasar fa impressione per la sua conseguenza di bocciarsi esclusivamente sulla gloria della rivelazione stessa. Anche le condizioni naturali che rendono possibile percezione e conoscenza della gloria nell'evento della rivelazione vengono concepite nella cornice di una metafisica teologica. L'approccio trascendentale di Rossmini che si può anche rileggere in termini estetici offre invece una strategia che non neutralizza la rivelazione nella sua indeducibilità ma mostra anche una mediazione possibile con il pensiero dopo la svolta al soggetto e quindi anche questa impostazione tiene il suo vantaggio. Insomma lo studio dell'approccio estetico di Balthasar del concetto di bellezza di Rossmini arriva in ogni cosa alla sua meta nel momento in cui si fa un'esperienza del divino che comporta la sua evidenza universale trascendentalmente verificabile e conduce perciò ragionevolmente alla conclusione del poema di Rilke «Du musst an leben in ändern tu devi mutare la tua vita». Grazie per la sua attenzione.